Io lo sapete, ho un fratello milanino aspetto il telefono già da ieri sera non è ritracciabile ragazzi mi raccomando iscrizione gratis al canale e campanellina datemi una mano anche voi non dipende solo ed esclusivamente da me dipende anche da voi decidete voi anche se è gratis non c'è nessun obbligo allora io un mese fa feci un video dove dissi alla fine l'inter sta riuscendo a mettere ci sono i video online sta riuscendo a fare una rosa discreta per il campionato di serie a io sono sincero non mi sono piaciuti gli acquisti gli acquisti eh sì acquisti di Arnautovic Sanchez eh il numero sette della della Juve quello che era la Juve questi tre acquisti non mi sono piaciuti poi se te mi dici che Sanchez è un upgrade del ballerino sono totalmente d'accordo ma sono anche io un upgrade del ballerino ragazzi parliamo sinceramente prima che l'inter lo trattasse eh ma no ed è dice Giusema dice te parli di giocatori prima perché li conoscevi bene poi dopo sa no io tre mesi fa prima che l'inter lo trattasse c'è anche questo video online fece un video su a mio avviso il migliore esterno tutta fascia del campionato prima che l'inter lo trattasse ed era Carlos Augusto non è che lo conoscevo solamente io Carlos Augusto quanto pare quelli dell'inter lo conoscevano prima di me e io vorrei spendere due parole su Carlos Augusto su frattesi perché ragazzi frattesi Carlos Augusto e Turam sono sono veramente sono tre acquisti bomba soprattutto per quello che hai pagato Carlos Augusto a sì di sì un mio utente che saluto disse sì Giusema è talmente forte che la nazionale brasiliana non lo considera cosa vuol dire perché Tiago Motta era considerato dalla nazionale brasiliana vogliamo dire che Tiago Motta era scarso non penso si possa dire giusto parte poi che Carlos Augusto ha venticinque ventisei anni è giovane ma è un esterno fenomenale per chi è veloce e tecnico può giocare braccetto di difesa può giocare tutta fascia e ha comunque davanti un ad oggi un mezzo fenomeno perché Di Marco un mezzo fenomeno cioè per quei 60 minuti Di Marco ti fa 60 minuti ad altissimo livello poi dopo dura fatica perché lì poi c'è il rapporto carrozzeria motore no che gli fa durare fatica però per quello Carlos Augusto avrà tante occasioni di giocare ma vedrete che lui sarà fondamentale per il che per questa per questa stagione perché è un calciatore totale l'avete visto ieri sera è entrato si è mangiato l'erba con la sua velocità ha messo pressione ai Milan fino all'ultimo minuto ragazzi questi sono grandi giocatori ci sono i video di tre mesi fa non scherzate cioè non sottovalutate questo acquisto qui perché questo ragazzo è fenomenale io ve lo dico dico le stesse cose dicevo per Turam quando qualcuno diceva che era una pippa attenzione o che Mkhitaryan Pippo Franco Mkhitaryan dicevano che che poteva andare a giocare nel Bologna al massimo cioè ragazzi l'evoluzione del gioco di Inzaghi oltre ad aver abbassato il baricentro è quello del massiccio utilizzo di braccetti che possano fare anche gli esterni fateci caso questa è stata una delle evoluzioni di Inzaghi tra l'altro Inzaghi lo vedo molto più cazzuto perché ha risposto incomincia a rispondere ai giornalisti e ora fino alla settimana scorsa noi dicevate eravamo così ora invece dice sono sì non l'avevo mai visto sembra più più consapevole di se stesso quest'anno Inzaghi io ho sempre detto gli manca un po' di personalità quest'anno sembra piuttosto a mio avviso un gesto di forte personalità dell'allenatore è quello di togliere Barella al sessantesimo secondo me lui il primo anno non l'avrebbe mai fatto di togliere Barella perché Barella se lo togli non è mai contento ricordatelo sempre te quando togli Barella dal campo lui non è mai contento e quello secondo me è stato un gesto insomma coraggioso c'è un giocatore che io a mio avviso non lo vedo pronto per nulla che è Bissec no qualcuno lo vide lo vide giocare bene inamichevole subito è forte un fenomeno uno Bissec Bissec ha bisogno di tempo ha bisogno ha bisogno di essere allenato ha bisogno di essere ripulito ha bisogno di eh l'allenatore ha bisogno di renderlo potabile a livello tattico perché a livello tattico è un ragazzo giovane ha delle mancanze si vede non mi piace nell'uscita palla deve migliorare in tantissime cose non è sempre sul pezzo concentrato ha tante disattenzioni per quelle poche volte l'ho visto giocare io a maggior ragione a maggior ragione vedrete l'utilità di Carlos Augusto perché Carlos Augusto gioca a braccietto senza alcun problema forza resistenza tecnica salta l'uomo crea superità numerica ora voi direte Giuseppe ma chi è Roberto Carlos? No è un grande giocatore Carlos Augusto mi sembra ieri sera ti abbia dato un assaggino di frattesi non parlo più anche anche di frattesi cioè questi sono giocatori forti eh non è che ci voleva Giuseppe chiesa nei radi io di frattesi ne parlo a quando è alza solo la caratteristica a me più impressiona è la doppia fase è la fase difensiva è come fa la fase difensiva come legge i movimenti difensivi e soprattutto frattesi è uno di quei poi calciatori che non corre mai a vuoto cioè era tanto non vedevo un centro a pista con questa corsa di qualità indipendentemente dalla fase offensiva dai piedi buoni dalla personalità ho capito che ti voglio dire però Carlos Augusto vedrete che quest'anno sarà un giocatore non utile di più e io il fatto che l'Inter lo abbia preso veramente sono contentissimo poi l'ho detto prima ragazzi davanti c'è un fenomeno che è di Marco e per sessanta minuti ti fa delle prestazioni devastanti difficile che lui gioca il titolare però possono giocare insieme attenzione Braccetto Carlos eh e di Marco Damanti si possono sovrapporre possono fare delle sovrapposizioni un po' come facevano con Perisic attenzione perché di là a sinistra tanta roba i movimenti di Carlos Augusto vedrete che miglioreranno anche anche Danfis Danfis quest'anno ha due giocatori che gli possono far alzare il livello del suo rendimento Carlos Augusto per i movimenti simil Perisic che gli permettono a Danfis di tagliare il mezzo al campo e un certo Tikus Turam e a qualcuno lo ripeto chiedete scusa a questo ragazzo perché Turam è stato uno dei primi quest'anno a capire che Danfis va lanciato in profondità e Danfis gioca meglio ma va lo sai perché perché c'è uno anche lo lancia in profondità che quando scende giù e fa l'elastico Danfis sale lo lancia in profondità quindi è questo ragazzi video di un mese e mezzo fa l'intero ha tirato su una bella rosa è normale ci sono degli acquisti che ho fatto questo video perché era doveroso farlo era rispettoso anche nei vostri confronti Arnatovic io non l'avrei preso spero faccia 30 gol ma Arnatovic la sua storia dice che tutto lì fuori è un bomber penso non sia mai arrivato nemmeno a 15 gol da quando gioca a calcio Sanchez sai Sanchez io l'avrei ripreso però che sta storia della nazionale sinceramente mi piace poco cioè io io speravo che l'inter si imponesse con il cileno che gli dicesse guarda chiudi con la nazionale però purtroppo i cileni ci sentono tantissimo per la loro nazionale è difficile capisco che sia difficile andare da a Nino e digli guarda Nino bisogna tu smetta una nazionale però ecco nel complesso nel complesso sono tutti i giocatori quest'anno che rispecchiano le caratteristiche dell'allenatore come quando mi battevo per Gosens di non prenderlo e qualcuno mi offendeva Gosens era un giocatore con i zaghi non c'entrava nulla lo stesso Lukaku era un giocatore con i zaghi non c'entrava nulla e lo stesso Correa era un giocatore con i zaghi non c'entrava nulla anche se poi penso che l'allenatore nella fase finale dell'acquisizione eh penso che anche lui no abbia dato l'ok questi tre giocatori non c'entravano nulla Gagliardini via non c'entravano nulla in zaghi la rosa dell'inter quest'anno tranne Bisse che secondo me è composta da tutti i giocatori che rispecchiano le esigenze dell'allenatore tra l'altro in zaghi eh è un allenatore molto particolare non è un allenatore che molla una competizione e predilige un'altra ma è un allenatore che cerca di arrivare in fondo sempre a tutte le competizioni ha maggior ragione una rosa ossia ampia e qualitativa per lui è una manna dal cielo l'ho detto ieri sera in live per come gestisce in zaghi le partite la stagione è meglio avere una rosa più ampia livellata a livello qualitativo che undici titolari più forti rispetto all'anno scorso ragazzi chiedete scusa a a Tikus Turam perché secondo me anche il gol di ieri è passato un po' troppo in Zodina ieri ieri Turam fa un gol da fuori classe gente che va a San Siro eh voi eravate a San Siro smettitemi pure se sto dicendo una cosa non è vero mi ha detto che erano anni che a San Siro non si vedeva un gol del genere ciao Iter